Buonasera a tutti i video, telespettatori, radiofonici, oh no che adesso c'è un doppio liezzare a metà, aspettate, chi è? Buonasera! Che belle sono le canzoni City Pups, giapponesi, mi piacciono un sacco, molte hanno questo basso che fa... ma non è possibile, ti giuro lo fanno un sacco di canzoni. Che fastidio Twitch cancella tutti i giorni. A me ci hanno tolto il follow perché non gli piace il City Pop giapponese a molti. Probabile. Probabile sia per quello. Amici, come state? Io oggi pomeriggio mi sono fatto un mezzo sonno. Infatti sto una merda stasera, sono tutto così. Non so se hai visto gli Ederson nel gruppo dei sub su Telegram. Hanno messo questo video di Giorgione, il canale ufficiale dell'ombro rosso. Adesso basta, parlo io. Ma che cazzo? Ma perché? Il più agile di me comunque, io lo dico. Ma perché è una persona dentro il vestito da Giorgione. C'è questo video dove è una trollata. È vestito da Super Mario. È una trollata dove fa... adesso basta, non volevo farlo questo video. Ma no, ma è il loop il video. E poi c'è lui che balla per dieci minuti e prende tutti per il video. Non balla per dieci minuti, credo che balli... Per cinque secondi. Forse trenta secondi, un minuto al massimo, poi si ripete. Beh, però... La storia di Plastic Love, perché c'è roba dietro, mi ha incuriosito. Cos'è il vestito da Giorgione? È come il Gabibbo. Il Giorgione non esiste, ragazzi. È Super Mario. È come il Gabibbo. Praticamente c'è uno dentro... Quello lì è un pupazzo, quello di Giorgione. C'è uno dentro che lo manovra, cucina, fa robe vestito da Giorgione, ma è un personaggio, eh. È proprio un vestito tipo il Gabibbo, eh. Esatto. In quel video una certa esce fuori Sei stato Giorgionato. E poi parte lui a ballare. Io non so. Gambero Rosso, quanta marijuana gira, eh. Tra i tuoi piatti. Chi è che gli dà la voce? È Pietro Baldi. Gli dà la voce a Giorgione. Tra l'altro mi ha appunto una zanzara di meuda. Oh, camiseria. Ma non erano morte le zanzare? No. Maledette. Dopo mi documento. È curiosa come cosa. Amici, questa sera giochiamo a Super Autopass. No, intanto c'è la notizia che uscì. C'è Ogurus Legacy per PS4, risconto del 33% su Amazon, quindi. Per PS4. E intanto c'è l'upgrade, la gratuito no, ma probabilmente sarà anche 10 euro in più. Però per un gioco che non è ancora uscito è tanto. Come scontro. Può essere tanto lo rimandano gli ezzer. Comunque sempre il prezzo è quello. Per scindere, quindi. Bambino, non sei sub. Non sei sub, bambino. Non andare via finché non sei più sub. Cioè, finché sei sub. Io intanto apro il gioco. Me lo preno subito, me lo preno. Dice Irene Salsa. Allora, io ho aperto il gioco. Così qua si metto un po' di musica in sottofiondo. E tolgo la musica del gioco. Fa un po' schifo. Massimo, dai. Prima non c'era, adesso c'è. Come paghi 30 euro al me? Vabbè, sì che paghi. No, 30 euro, 25. Riapro il fast. No, meno. Quanto costa adesso la sub... 20 adesso dovrebbe costare la sub... Non dovrebbe costare 20 adesso, no? Prima costava 25. Perché infame, mi ha detto? Quella scenery lì. Allora. Io vado... Qua sembra che si trova su ebay. Nella radio dell'artista Anri. Metto play. Così è troppo bassa. Così? Scusate, è partita... Grazie Rigolone. Grazie Rigolone. Grazie Rigolone. Buone ferie a lei. Quando rinnovate. Quando rinnovate perché veramente... Io toglierei quasi il sabbolo perché è deprimente. Eh, Glienza, lo è. No, più che altro perché ogni giorno... Non le vedi tu. Crollano. Eh sì. Allora, ti stremo a te. E tra l'altro tra due giorni sarà anche peggio, lo sai? Eh sì. Grazie Gabri. Domenica torneremo che saranno pochissime. Sanno mille probabilmente perché sarà la 12 ore. E agosto ci sta portando via tutto. No, mille no, perché comunque la 12 ore l'abbiamo fatto in 200, quindi al massimo ne perdi 200. Eh, 200 più tutti quelli che non hanno rinnovato perché agosto. Vabbè, quello sì, messi in totale. Grazie Gabri. Ok. Speriamo che si faccia un buon September, speriamo quest'anno, speriamo. Voi trovate sub goal con obiettivi meme perché volete che facciamo cose nel sub goal. Ma tanto cosa cambia l'obiettivo? Non è quello che deve portare la gente sub goal. No, le cose le facciamo lo stesso. Grazie Federico. La sub la fate perché ci supportate, non è che le facciamo perché vi diamo roba. Grazie, grazie Federico, grazie delle cinque subs. Grazie mille Federico. Change. Bacco da buco però è carino, bacco da buco. Devo cambiare anche qua. Eh. Eh, non stremo da un sacco, eh, non sono più capace ragazzi. Ah, in realtà alcuni obiettivi li avete. E che sono qui là. Lo sapete, a 1800 distruggo il cosolego e Mark cosa aveva detto? A 1600? Forse proprio per quello che non le fanno. Aspetta ora che arriviamo a 1800. A 1600 cos'è che aveva detto Mark? Non ricordo che aveva detto uno. Si tagliano i capelli, si tinge i capelli come zoro. Si tinge i capelli, giusto. Amici, senti che basso qua che c'è però, lo senti che basso che c'è? Grazie Federico comunque. Io non sento la... No, ti guardo in live ma non sento la... Ah, ma mi stai streamando? Si. Ma non serve, intanto guardi là non c'è il timer, quindi posso vederlo anche... Capito. Lui non ti consuma la connessione. Vabbè ma adesso c'ho una connessione marmoreo agli ezzere. Meglio non tirarlo troppo forte. Ok. Comunque. Arena modo. No, che schifo. E vabbè. E vabbè. Allora, per chi non sapesse cos'è questo gioco... Ma che schifo, l'ha dato solo a questo? Ha uno random. Che palle. Per chi non sapesse cos'è questo gioco? È un auto chess. Quindi, come funziona? Non fatevi intimorire dalle cose carine. È tutto incredibile, è carinissimo. Come funziona? Praticamente adesso c'è la... Sono due fasi a turno. Questa è la fase di shop. Dove? Qui sotto, la riga sotto è lo shop. E la riga sopra è il nostro ground. Il nostro team. E... Io adesso, questo qui è il primo round. Ho comprato tutti e tre quelli che c'erano. Questo qui è a parte perché questi sono i personaggi. Questo qua, invece, è il... È un oggetto. È un boost in qualcosa. Partiamo con dieci monete. Abbiamo... Ogni cosa nel negozio costa tre monete. Mi avanzo una moneta, quindi rollo. Il pesce, ogni... Naturalmente, ogni dick può rimanere, Corne. Questo qui è tutto gameplay, Corne. Non c'è nessuno che mi parla. Ogni animale ha il suo valore di attacco e difesa. Però hanno tutti una sua... Una loro... Cazzi, Piro! Grazie mille, Piro. Abilità passiva, ecco. Cazzi, 33. Il pesce, praticamente, quando lo level up, dà più uno, più uno a tutti. Però ti servono altri due pesci. Però devi avere il culo di trovare il pesce. Cavallo, adesso non ci serve niente. Però, preso all'inizio, avrebbe senso. Eh, adesso non lo possiamo prendere tanto. Eh, bloccolo. Potrei frizzare, ma non... Sei frizzato. Io lo frizzerei. Perché comunque siamo all'inizio. È ancora all'inizio. Potrebbe essere un buon buff. No, all'inizio quello qui, semmai alla fine è un buon buff. Lo frizzato... No, però se inizi a baffare adesso... Cioè, hai più possibilità di trovarlo. Eh, certo. Sì, però è comunque un buff che... Vabbè. Adesso si va al turno di attacco, invece. Prima, però, dobbiamo dare il nome al nostro team. Oggi ci chiamiamo... I Cappelli Croccanti. Siamo i Cappelli Croccanti, questa sera, eh. La parte che mi piace di più è scegliere il nome. Che incredibile. E questa è la parte della battaglia. Siamo con una formichina. Vabbè, fa un cacare. Li sfondiamo. Lui baffa. No, pareto. Perdiamo. Mi spacca il culo. Abbiamo perso il primo turno. Beh, l'altro l'altro è andata molto meglio. Meglio perdere all'inizio che alla fine, comunque. Sì, ho capito. Perché all'inizio perdi solo una vita. Poi più avanti perdi anche la dignità. C'è il maiale. Il maiale fa schifo. Provare... Prendi subito il pesce e poi rolli. Sì, dai. Ok. Ok, buono. Good. Però anche... No, però quello è più la vendita. Questo qui quando vendi da... A due random più uno di vita. Allora, lui lo prendiamo intanto. Eh sì. Allora, o prendi o giri e frizzi. Non lo so. Ragazzi. Io prendo la pussi qui. Questa all'inizio ci sta. E però... Ok. Tanto è il secondo turno, dai! The Metal Fighters. Ma ci hanno pieni di merde questi. Sì, vabbè. Adesso dovresti farci. No, Gli Zero. Che dovrei farcela? Ah no, i pesci fanno cacare. Ah no, però è pari, dai. Vabbè. Pari. Non si vince, non si perde. Ok, adesso ci abbiamo quelli livello 2. Il elefante. Adesso il pesce come lo trovi. No, ci può trovare comunque. Sì, lo so, però inizia ad essere più probabilità di non trovarlo. Allora, qui si può baffare. C'ho tutti cose che non mi servono un cazzo. Cioè, li vado a vendere tutti questi, in realtà. Solo che qui l'elefante... L'elefante lui è buono se hai una build che è quello dietro di lui. Se prende danno, perché lui quando prende... Prima di attaccare lancia un sasso dietro di lui e... Fa danno a quello dietro di lui. Che se quello di lui ha un effetto che si attiva quando prende danno, Gli attivi l'effetto ogni volta. Però... E ho, rolli. Rollo. Il picocco! Quello è in combo con l'elefante sarebbe stato... Anche col flamingio. No, con l'elefante sì, però... All'inizio prende un po' danno. Vabbè, uno. Sì. Allora, prendo tutti e due l'oro. Vendi le due donne? No. Pesce per ora tienilo, magari. No, li... Me escio questi due. Beh, sì. Dove lo metto? Faccio così... E prendo anche una ciccia. Più quattro attacco. Più quattro attacco... Lo darei quasi a lui, così sfonda già i primi. Magari hanno un tank davanti. Ci sta. Può presto, forse per il tempo. E che poi lo vendo, lui. Ah. Lo do al picocco. Lo do al picocco. Eh, lo so. Eh, diventa un dieci. Si buffa, bestia lui già. Dai, lo do. Se no, rerollo. Per rerollare non compri nulla, però possiamo vedere cosa esce. Dai. Fai... Eh, vedi, vedi. Blocco. Fai ancora reroll. Questo fa schiefo. La pillolina per il flamingo, ma una la blocco, dai. Può diventare un 3. Un 2, livello 2. Si, un livello 2. Magari poi lo vendo subito e mi buffa due friends. Dai, lo frizzo. Poi vediamo. Il picocco prende l'aglio. Eh, si. Picocchio è buono con l'aglio che gli difende due danni. Vediamo. Maledetto maiale. Ma c'ha 7 di danno, però lo sfondo, quindi ti è. Signo, serve una sega. Mi buffa dietro. Mi fa uno di danno, quindi mi buffa e basta. Vabbè. Ok. Ok. La musica la devo alzare, ragazzi. Troppo bassa. Beh, allora, fai il buff alla cosa. Allora, picocchiamo. Un tito. Un tito. Non è male, comunque. Un tito. Sì, magari lo vendiamo dopo. Il... Questo. Allora, odo via subito il flamingo con la pillola. No, la pillola costa uno, eh. Posso usarla sul flamingo così mi baffa i due dietro. A questo punto gli faccio baffare questo. Non ne vale troppo la pena. E poi dopo ci metto il riccio in fondo. Che il riccio quando muore fa due danni a tutti. Se lo metto in fondo, come ancora di salvezza... Potresti fino in Parigio, sì. Sì. Vendi la lontra. Eh, pensavo anche di vendere la lontra. Perché mai il pesce inizia anche a diventare inutile adesso. Eh, però se ne trovo un altro mi baffo tutti. Poi dopo lo posso dar via. Adesso ancora lo tengo. Grazie SubZero. Grazie mille SubZero. Vendolo a lontra. Eh, ma non c'è Marco, non c'è. Vendolo a lontra. Non c'è Marco, comunque grazie mille SubZero. Non c'è Marco, no. Vendolo a lontra. Quello mi baffa ancora un pochino. Sì, ma è un po' inutile il riccio dal topro. Il riccio fa due danni comunque. Potenziarlo all'inizio può anche essere utile. Però posso rerrollare. Vabbè, questo l'ho preso, dai. Eccolo, vedi. Pesce. Il pesce. Il pesce. Abbiamo trovato il pesce. Cazzo, ma c'hanno le bestie loro. Sta abbaffando il cigno questo qui, perché? Ma c'ha il fatto... Ma tu stai giocando con gente che sta giocando adesso o sono squadre caricate? Sono squadre caricate. Ok. Eh, non lo uccido. Ok. Che musica tremenda se posso dire. Zesty, non capisci proprio un cazzo, però, eh. Ok, siamo al... Vabbè, prendi il pesce. Ah, double slam. Aspetta, il pesce cos'è che fa? Aspetta. Il pesce level up a tutti. A tutti. Allora, aspetta. Prima vedi se buttare via qualcosa, già. Ma che posso sprecarlo. Io posso pillolare il flamingo, che mi dà il più uno più uno a quelli dietro, e poi lo rimetto. Ha senso? Però, chi baffa dietro non baffa il pesce? No, baffa la lontra a sto punto. E il castoro. Ma il castoro poi va venduto anche lui. Vabbè, per ora però è forte, è un 6-5. Eh, ma lo baffi e poi viene venduto? Eh, ma tanto, prendi qualcosa di nuovo adesso. Fai una rollata, giusto per vedere. Però rolli anche il flamingo. Non lo rollo il flamingo. Facciamo una pova. Double camel. Allora, il cammello quando viene sfasciato lo mettiamo al posto del flamingo. Quando viene sfasciato dà più due più due a quello dietro. Oh, sì. Allora, allora, a sto punto facciamo così. Se devi... eh, vendi il flamingo, se devi... Il flamingo gli vuole dare la pillolina. Gliela do adesso. Solo che poi vendo anche il... Vabbè, per adesso non lo vendo il pesce, quindi dai, va bene. Anche perché devi potenzarlo adesso il pesce. Allora, intanto ne mettiamo uno. Il paparotto. Allora, il flamingo, basta. No, potresti... Oddio. Vendere il pesce e mettere il parrotto? Eh, a sto punto così ce la faresti. Non sprechi il turno. Vendo il pesce, eh? Eh, comunque un 5-5 il pesce, eh? Che schifo non fa. Però... Il pappagallo cosa fa? Eh, il parrotto copia l'abilità di quello davanti, solo che con due di vita... È un po' inutile adesso. Fai lo frizzo, aspetto. Ero la rolla, vediamo cosa dice. L'aglio. Ti batta. L'aglio per il picocco dopo. Anche per il formello. Un oraculo? Potente avvenente oraculo. Riuscirò a fare più di 5 vittorie a questo gioco del cacchio? Vediamo, Veldrak. Ma tu non ti scoreggiare. Persisti, persisti. Non fare le puzzette. Cazzo, sei di danno. Buono. Quanti, però? Non importa, lui mi si pompa. Sì, però la vinta è quella che... Cazzo, lui c'ha il melone di merda. E non importa, adesso il melone non ce l'ha più. Prendiamo con lui. No, pareggio. No, pareggio. No, pareggio. Vabbè. Sì, per poco. Vabbè, vabbè. Cazzo. Allora. E devi potenziare il cammello, però, se vuoi puntare sul pello. Eh, intanto qui ce l'ha fatto così. Così. La giraffa dietro il picocco, che alla fine del turno gli dà... Il turno, il game friend ahead, per sempre. Cioè, tutti i turni lo fa. È figo, però, sì. Però stiamo puntando troppo su un picocco. Certo. Eh, ma è un rischio, però. Boh, proviamo. Sì, il pesce o il... Cosa li vengono? Sì, più che altro il riccio forse senza iniziare ad entrare un po' inutile adesso. È vero. È vero. È che forse, sai cos'è? Il riccio potrebbe andare bene anche all'inizio. Perché se lui muore e fai due danni, togli tutti... Però togli tutti i potenziali riduci danno agli altri, agli avversari. Togli tutti i riduci danno? Cioè, tipo, magari hanno... Non ricordo come si chiamano. O là... No, anche l'altro. Quello che magari, quando ti colpisce una volta, non subisce danni. Con quello... Teoricamente io lo togli. Che vale per... E teoricamente è danno, quindi sì. Non lo so. Ma è per quello che lo... Ma secondo me è utile proprio per quello. Perché funziona così. Sì, più che altro io pensavo al fatto che baffa il picocco e il cammello. Anche. Cioè, il cammello baffa il picocco una volta e il picocco si baffa ulteriormente. Possiamo provarlo. Proviamo a metterlo davanti. Ma anche io credo... Comunque c'è... Comunque danno, quindi... Io vendo la... La castora. Beh sì, inutile. Ok. Il parrotto... Non so se mi serve tenerlo. Grazie, Price. Non mi ero accorto che dovevo rinnovare. Ricordatevi, ragazzi. Se avete Prime dovete rinnovare a mano. Rinnovatela. Rinnovate. Sì. L'elefante davanti. Con le vacanze, però, rinnovate, ricordatevi. Ciao, Ramonzie. No, questo c'è una build della... Il cane diventa un diramatore di rompicoglioni. Però così gli ho fatto fuori una pecora. Tutte e due? No, questa. Non c'è il posto, non ci sta. Bestia. Che cazzo da build da evocatore di merda che ha. Però quello è un 14-14, eh? Sì. Potrebbe fare... Tutto. Eh sì. Vai! Ma che persissima, oh! L'IPIPIPOPABO! Croc out, gain out... Eh. Ogni volta che butta fuori uno, fa più tre più tre. Prova potenziato. Al posto del picocco. No! Allora, adesso... Butta via il pesce a sto punto. Adesso buttiamo via il pesce. Mettiamo il gerafo alla fine. Eh sì. E ci mettiamo lui. Sì, che è il secondo da potenziare. Perché dobbiamo potenziare il picocco e l'ipopotamo adesso. L'ipopotamo diventa... Fenomenale. Allora... Puoi puntare su due elementi. Facciamo potenziare la girafo, eh? Facciamo così... Eh... Non lo so, non hai potenziare più il... Darei più uno più uno al coso. È molto più forte l'ipopotamo. Appunto. Eh, però è meglio il più due più due del cammello. Però, aspetta, il più due più due è solo per la partita? O per sempre? È solo per la partita. Eh, invece quello della giraffa è per sempre. Sì, però è più uno più uno. Eh, però è costante. Se vogliamo iniziare la potenziale devi iniziarla subito. Eh... E quello è comunque più uno più uno costante ogni turno. Allora faccio così. Ah, perché vuoi puntare? Eh... Sì, ci può stare. E vorrei mettere anche l'elefante al posto del riccio. Va bene. Così? Eh... Potenziale la giraffa, tanto scegliere. La carnazza al pippopotamo. Potenziale la giraffa e rolla e vediamo cosa esce. Non so se potenziare la giraffa. Ma io lo farei. Cazzo durissimo, ragazzi. Cazzo, grosso come una mongolfiera. Io lo farei la giraffa, date i tre cose. Io farei l'ipopopopop. Ah, beh, sì. Sì, sì, no, no. Sì, fai l'ipopopopop. Via. Te. Sì, la giraffa semplicemente se la potenzi prende i due avanti. Non è male, eh. Due due ogni turno in più. È tantissimo. No. Da uno uno, ma a due persone. Ah, vabbè, comunque non è male, eh. Puoi mettere entrambi quelli che vogliamo potenziare. La giraffa la metti per ultimo. Non so. Vediamo. La link in panda. Se solo avessimo una scimmia. Eh, ci sfonda. Questo c'ha sette mila danni. Dal coso dietro al bastardo. Niente, vabbè. Hai visto, Vorn? La calmitudine. Ah, che bello. Vedrai poi, se non ti viene voglia di picchiare qualcuno. Cammello più due. It's for food gift to do random friends più ne... Eh, no, non c'abbiamo lo spazio. Eh, rolla. Per ora ti minaccio la foa bloccata. Sì. Il bisonte cosa fa? Fine del turno. Più due più due se hai uno più tre. Non c'ho nessuno più tre, quindi lo prendo nel deretano. Oh, zò! È alla pera! Devo frizzare anche lui. Lui non mi interessa adesso. Vedo la pera. Vai! Il canguro dietro al lipo è buono. Questo è vero. Però voglio baffarmelo a merda. Oh, scemo! Ma... Ma ha attaccato proprio i due... Ottimo, ottimo. Ha attaccato i due che si buffano. La giraffa finché non me ne arrivano due non ha potenza. Non ci faccio un cazzo. Oh... Guarda che bestia! Guarda come si inzuppa! Li pippo popo pop! Guarda, guarda come cresce! Come diventa enorme! Ah, il 50 è il massimo? Va bene. Le pipippo! Ok. Eeeh... Allora... Mmm... Il dolphin fa cinque danni a quello con meno vita di loro. Che il picocco inizia a essere... Cioè, c'abbiamo il pippo potamo. Lui potrebbe essere non male. Perché tira un sasso a probabilmente quello dell'altra squadra utile solo a baffare e non potenziato. Eh, non male, sì. Io vendo il picocco, ragazzi. Lo faccio, l'ho fatto. Ho fatto e me ne sbatto. Potenzio all'elefante. Potenzio all'elefante. Che lui tira due sassi a quello dietro, se lo potenzio. Così si potenzia davanti, dai. Ma, aspetta, ma ci serve che tira gli sassi? Fa due attivazioni di questo che baffa due volte l'ipotenzio. Ah, sì, no, non mi ricordo che cosa... E... rollo. La giraffa, se la potenzio, rientra al tre, eh? O ne manca ancora due? No, no, se la potenzio non aumenta di livello. Allora, la pera, la frizzo, ma do l'aglio al... al cammeddo. Zoi, zoi. Eh, ma non c'ho tanti che feintano. Vabbè, non mi piace niente. Il cummello. Un culo così gli facciamo adesso, eh? Guarda, eh? Chi sono? Contro chi siamo? The Magical Celebrities. Porca troia. No, c'ha la scimmia. Oh, è morto. Eh, ma frega un cazzo che è morto. Non servono a niente quelli. Servono solo a baffare. Minchia, quanto forte quella... Eh, c'ha la cazzo di scimmia. La scimmia la dà... Più otto, più otto ogni turno permanentemente al primo nella lista. È una vita sola. Che gioco di merda. Cazzo. Allora, questo qui dà più uno, come se mesci uno, quindi potremmo fare più due. Se mi capita un terzo peppippo... Però ci abbiamo solo una chance. E poi moriamo. E poi moriamo. Cosa faccio? Ma cosa faccio? Devo mettere le pippo di fronte, però. Perché la scimmia dà più due, più tre ogni fine turno. Quindi già andrebbe più a... Tredici. Cioè, già va su. Più gli do anche due. Dai, puntiamo tutto lì. Quindi... A sto punto, però... Vendo la giraffa... Vendo la giraffa, sì. Quindi dobbiamo fare così. Cazzo, anche la miucca, però. Cioè, la miucca mi mette due item gratis che potenziano. Più regge, più... Sì, ma... L'elefante adesso è inutile, però. Ok, ma uno, tre... Adesso è tardi per l'Ox, mi sa. Vabbè. Vediamo. Tanto o la va o la squacquera, eh, ragazzi. Guarda che c'ha due figli di androcchia, questo. Tutti due più due ce li ha, ma questo è un pezzo di s... Merda. Ok. Buono. È finita. L'hanno perso. Forse non per il delfino. No, per il delfino che c'è in pareggio, mi sa. No, vince. Guarda che delfino. Guarda, The Dolphin. Ecco The Dolphin. Però... Pizza! Cazzo. La tigra è messa dietro qualcuno e gli fa ripetere due volte la sua abilità. Eh, dietro l'ippopotamo. E se la metto dietro la scimmia? Forse meglio dietro l'ippopotamo, vale di più. Eh, ma dietro la scimmia mi dà più quattro, più tre di nuovo all'ippopotamo. Per tutti, sì. Eh, ma non... Non so perché non... Sono in battaglia, credo. Allora niente. Eh, allora per forza dietro. Butta via l'elefante, allora. O il delfino. Eh, ma il delfino adesso non era Mario, però. È che l'elefante adesso è un po' inutile. Proviamo. Cazzo, devo prendere prima la pizza. Vabbè. Buono. Io punto tutto sull'ippopotamo. È sbagliata come cosa, non mi interessa. Lo faccio. Lo faccio. Non c'è per caso un'abilità che uccide direttamente uno? Perché se la sarebbe un problema. C'è il... Sì, c'è il... Lo scorpione che ha quell'abilità lì. Ma cos'è il drago quello? Sì, quando compri un pet da tutti gli altri... Minchia. Più uno più uno. Eh, va bene. All'inizio è quello. Allora, il prossimo turno, se resistiamo, abbiamo il lipo più tre. Livello tre. Puoi farlo andare. Che il cammello non è che... Il dolphin... Che non ho speranze, non ho. Vediamo. Io poi vorrei dare se troviamo il me... Madonna, come l'hai guffata a te, penso. Nessuno nel mondo esiste, eh? Uhuh! Uhuh! È vero che aveva pochissima... No, c'aveva la bistecca, quello dietro! E niente. Beh, però non è morto per lo stesso coso, quindi non è colpa mia. Sì, è uguale. Come non è colpa tua. Nel serpente rosa era un verme. Che è il serpente rosa? È un verme! Sfondato, questo bambino di merda. Ci ha sfondato. Questo... Pezzo di merda dodicenne. Che schifo! Flebile... Flebile baguette. Il maiale quando lo vendi ti dà una moneta in più. Flebile merda. Gambe flebili. Mi fa ridere gambe flebili. No, io no, Khorne. Insegnami. Tie! Pari, vabbè, è uguale. Non importa. Va bene lo stesso. Non parlavo di te, Vector. Stai tranquillo. Allora, abbiamo Poerz. Abbiamo la formichina. Prendo Poerz. Non... Ma sì... Batta, la formichina quando muore dà più uno, più due... C'è quello lì. A uno a caso. Ok. Ok. Cambio canzone. Una battaglia tra gambe. È vero, è vero. È vero, è vero. The talkative legs. Va bene. Triple Poerz. Eh, ma Triple Poerz. Quando lo vendo cos'è? Mi darà tre monete in più, Bo? Provo? Provo. Per la scelta. Dovevo mesciare dopo. Due extra coin. Ma che scammata di merda il Poerz. Prendiamo il dodo adesso, lo baffiamo come non mai, con non so cosa. Due, che mi sembra un po' un azzardo. Dal 50% del suo attacco a quello davanti. Sì, però sembra un po' un azzardo. Non so, io ragazzi non so giocare più a questo gioco, sono stanco. Io voglio fare la build. Questo cosa fa? Vabbè. Vabbè, questo baffa i cibi nello shop. Per la salute. Ne. Non lo so, ragazzi. Dodo o brodo? Facciamo il dodo, dai. Proviamo. Proviamo a baffare il dodo. Gli do subito la mela. Ti è. È un po' inutile la mela. Aspetta, eh. Fammi fare una cosa. Facciamo così. Era la statua del pensatore. Proprio lui. Guarda questo stronzo che già c'ha i cazzi, eh. Al terzo turno! Già c'aveva le cose lui. A me non mi capita niente. Lui aveva le cose. Il dodo me lo infilò nel culo. No, vabbè. C'è il picocco. C'è il mio amico. Ma cosa ci faccio col dodo, scusa? Se dobbiamo buttare su lui, dobbiamo potenziarlo. Così, è vero. Vendo il porco. Prendi il picocco. Vendo il porco. E ci metto quale dei due. Perché l'ox, quando quello davanti muore, lui prende il melone e più uno di attacco. Più quello dietro che gli dà l'attacco. Eh, non è male, sì. Gioco chilling, sì. È solo che pensi che... Vieni per prendere anche tutti e due, eh? No, devo prendere la mela. Voglio poterlazare il dodo. E allora prendi il... Cambiamo, prendi la... Non prendere il picocco, prendi l'altro. Non vendo il maiale, però. Aspetta, vendo il piggo. No, cosa ho fatto? Vendo... Questo. E la lontra fa schifo. Fammi vendere la lontra. Sì, infatti. Allora. Ma quanti porci? Non lo voglio il porco più tre. Prendi la mela. Eh, dicevo dovevo darlo al dodo. È la rollata? Solo porci. Solo porci! A me mi va la porchetta adesso. Mi va la porchetta. Però facciamo così. Sì. Mhm. Sette sette già? Sette sette. La grande bastarda. Grazie, Pindo. Così? Ti presenti così, Pindo. Grazie mille. Grazie, Pindo. Grazie di Cuedo Beats. Grazie, grazie. Il Puerk. Guarda. Maledettamente infame. Chi era? Lanlikstein for fun. Cosa? The Wet Husband. I mariti bagnati erano la sua squadra. No, non va bene niente. Oh no 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 no! Eh, non l'abbiamo preso. Gli Izzarm, adesso mi hai fatto... Eh, ma perché non possiamo fare sempre gli stessi. Adesso sono arrabbiato, però. Rolla, va? No, come rolla? Pure. Certo. Perché li vuoi tenere? Fammi riguardare un po'. Non lo so, sono indeciso. Grazie, Matt. Quello che facciamo per fare il complesso di amore per la serie su Elden Ring. Grazie. Grazie, Matt. Grazie di cinque mesi, comunque. Bentornata. No, sono i predefiniti questi shooter. Dai, rolla. Questa vedi che era una cazzata. Eh, però vedi, è comparso l'altro. Questo non è male, però, eh. Gli puoi prendere tutte e tre, volendo. Eh, ma poi dove lo metto? No, lui lo prendiamo. Puoi togliere il castoro. Eh, ma poi dove me... Aspetta, facciamo così. Intanto... Potenza da qualcuno. Buono. Va bene. La fa il miele? Miele, quando muore, evoca una Ape 1-1. Una Ape 1-1. Quando il nemico davanti attacca, prende più 2-2, il cangurotto, che non è male se avessimo un tank. Ma non ce lo abbiamo. Il Dodo è il nostro tank. Che però rimane in fondo, quindi... Ma che suono? Il tasso di merda! Non mi interessa. O prendi... La carne o potenzio già il canguro. Ma chi la do la carne? Potenzio il canguro. Mi sento ancora safe. Siamo ritornati a 80.000 a follo, ok? Vai. Quindi festeggiamo. Questo stronzo! Ma si è ucciso tutti i suoi, scusami. Non è che Orca Troia... È troppo capito. Però lo sfondo perché c'ho il cocomero. Mi spiace. AC11. Hai perso! Torna a scuola a studiare! Merda! Calmo, Hector, però. Ha ragione. Cosa calmo? Ha ragione? No, calmo con le parole, nel senso. Allora... Fa schifo. Il picoco... Il flamingio... Cosa mi metto? Non lo so, ragazzi. Sono veramente... Guarda. Tanto corno, mi fai un sondaggio? Voglio vedere il tasso di tranquillità della chat. Dai la carne al toro. Ci stavo pensando di dare la carne al toro. Non lo so. Vado. Noi dobbiamo vendere il porco e metterci qualcosa di ficcante, ma non abbiamo niente. Non ti metterci a mente che molta gente magari arriva dopo. Non è che leggono tutta la chat prima, non è Telegram che puoi leggere tutta la chat. Non ho bisogno di scrivere la musica fa schifo, mi abboffa la minchia. No, ok. Però non c'è bisogno neanche di rispondere così. L'aglio, e peperoncino, se lo metto al Luis, mi tenca. E gli altri non mi servono a nulla, così mi buffo il cangurotto. questo è un pochino già più stonx. Vai. Guarda che sono Fabic, che sono. Guarda che figli di un'androcchia. Come ha fatto a trovare tutti questi animali di merda, lui? Come merda ha fatto a trovare tutti questi animali da malone? C'è un oracolo. Il toro tratterà l'effetto della carne quando si autobaffa col melone? Tieni, ti regalo questa melanzana onde ciapette, ma me la prendo io e me la insino nel deretano, perché hai ragione. Non ho guardato adesso, però mi hai distratto con il tuo termoracolo. Ah, se cerchiamo la prossima è già persa. Uh, quanti dodo. Me li metto nel culo insieme all'ammeranzana e alle ciapette. Il Rhino 5-8. Caudial 4 damage to the first enemy... Dopo il toro che lui fa sempre almeno due attacchi. Cerino, vedi? Cerino e Cerino. Fa sempre due attacchi. Grazie dei cinque anni. Grazie mille, da Rino. Grazie, grazie. È vero, non ha troppo caccato fuori dal vaso. Poi si prende cinque di attacco dal dodo. Io mi metto il rinoceo al posto del piggo. E gli do anche la carnazza. Ciao, Lyle. Ciao, Fabio. Eeeh... Beh... Do l'insalata. Vai. Aspetta, faccio così però. La balena, io non ho capito come può essere utile. Mangia quello davanti e poi lo rilascia a livello 1 quando muore. Ma mi toglie uno slot? cioè come... Non lo so, con l'insalata. Speravo la desse al canguro, al dodo, vabbè. Aspetta, quando è che lo mangia, scusa? Non lo so, Lyle. Perché magari te lo mangia adesso, quindi tu come se avessi sei personaggi, tanto che uno è mangiato. non credo. E comunque devo venderne uno prima di... Ma porcata eroia. Uèh! Uhuh! Perché non ha tirato tre? Tirati due prima. Questa è andata a ganza, eh? Perché dipende dal livello degli altri. Ah, all'inizio della battaglia non ho rilasciato. Rispondi anche tu, fammi rispondere. Sensimento ufficiale della rilassatezza comune. Verso la liquidità, moderatamente rilassato, indifferente, moderatamente ricido, durigno. Purtroppo, la valena è utile con il giardino perché allora doppia. L'Ippipotamo! Il mio amico Ippipotamo! Se io ho il mio amico Ippipotamo! Lo metto! La formica serve ancora. Perché la formica dà più 4, più 2 quando muore. Ha uno a caso. Però è uguale a caso. Lippo cosa fa? Eh, Lippo, quando uccide uno fa più 3, più 3. Eh, forse conviene più quello. Anche più vita, più tutto. Sì. Però stavo pensando a come disporli. Perché poi ci metto il dodo dietro. Mi piace metterci il dodo dietro. Perché la formica aspetta, fammi vedere. Se troviamo un compo mei so. Faccio l'ox più 2 a sto punto. Non sarebbe male. La merda! Dobbiamo cambiare build, ragazzi. Dobbiamo cambiare build. La scimmia adesso... Considera che se perdiamo abbiamo perso. Hai ragione. Non è così tanto veloce. Però la scimmia è over the top in DS. Sì, però è forse tardi adesso per cambiare build. Vendiamo il cangurotto? Non abbiamo così tante monete. se vendiamo il cangurotto sì che abbiamo abbastanza monete. Possiamo comprarci sia il pippo che lui. Tanto è già persa probabilmente. Esatto. Allora, aspetta. Prima di vendere la formica vendo il cangurotto rollo. Aglio e pera. Aglio e pera. Mi serviva una pillolina per uccidere la formica. Ma vabbè. E che questi non li voglio rerollare quindi cazzissimo ragazzi. Allora, dobbiamo fare così. e via. Che schifo. Sì, adesso ce l'ho scioltato subito tanto. C'hanno già quelli a 60-70 invece. Ma pezzo di merda! è il picocco molto male. Però, attenzione! Abbiamo il mellone! È culo! Wuss! E la scimmia la scimmia ce l'ha abbattato e ha fatto il suo corso. La lumacca. La lumacca se la partita da prima hai perso da più uno a tutti. Ma come? Scusa! Ma bellissima! Cosa faccio? Allora, aglio e pero l'ippopotamo? Io quasi un po'... Lui shotta uno. Lo scorpione! Lo scorpione one shotta uno. Sono i sit bell. Sì, questi li ho riconosciuti anche io, Vectors. Il parrotto dietro la scimmia. E qua da spotify intanto poi non si sente. Il parrotto dietro la scimmia non credo baffi due volte perché il parrotto mi sa che funziona solo in battaglia. Quindi no, non funziona. se io vendo l'ox e metto lo scorpione davanti così one shotta però no perché ho la scimmia. La scimmia la faccia. Sì. Metto lo scorpione nel mezzo. Cosa faccio? Metto nel mezzo lo scorpione? Il problema è che è shotta uno però non sai chi eh no però se è nel mezzo no tecnicamente teoricamente sarebbe da shotare il primo eh lo so però il primo mi serve a tenerci lui perché viene abbassato dalla scimmia. O togli la scimmia proprio e no la scimmia è troppo importante gli ezzar chi è che vuoi togliere? Non ho capito. Il lox toglierei e metterei il rinoceronte quindi qui dietro però è comodo perché gli dà anche c'è il melone anche sì molla il dodo io toglierei proprio la scimmia perché la scimmia buffa e basta molla il dodo in panca perché la scimmia cazzo buffa e basta è quello che serve sì ma danno più due più tre per ora e basta sì ma lo scorpione comunque shotta uno e l'altro comunque si prende uno di invincibilità ma poi muore sì ok ma l'altro si prende uno di invincibilità cioè tu vuoi togliere l'ox che prende l'invincibilità e più due di attacco cioè secondo me sono tutti importanti la scimmia secondo me è quella meno importante no la scimmia è quella più sgrava del gioco come quella più meno importante non adesso deve essere potenziata adesso secondo me no da più due più tre ogni turno permanentemente e sì quello è vero sì lo scorpione con il delfino me lo counteri però non lo so però il allora lo tengo l'ox però è troppo importante l'ox ha quattro di danno comunque non è che si potenzia prende più due eh prende più due e diventa invincibile cazzo ah quella formica di meuda no formica di meuda però mi sfonda non ancora però mi sfonda dopo però gli sfondo anche questo io tiè va bene va bene ah il canned food non è male questo andrebbe sempre preso potenzia tutto il negozio il dodo aspetta il dodo cosa faceva il dodo dà tutto il suo attacco 5 di danno quello davanti secondo me a questo punto potresti toglierlo eh ma cosa ci metto eh il scorpione il scorpione dietro il pippo però secondo me il scorpione deve andare per primo perché se poi il nostro ippopotamo ferisce uno magari lo lascia uno di vita arriva il scorpione lo uccide sì ma aveva uno di vita è sprecato deve essere il primo secondo me lo scorpione quindi con la se abbia l'ippopotamo con la scimmia non ha senso esatto quindi con la scimmia lo scorpione non ha senso o fai una build o fai l'altro quindi rimuovi anche il ghiaccio cioè lo scorpione non ha senso questa build o fai solo di oggette adesso o boh il sushi vai vabbè ma sì sì ma dai mi ha fatto quelli giusti un altro aglio che però non lo voglio una peva me la coso per dopo guarda come ci sta chiamando questo scorpione però non va bene con la scimmia non ha senso lo squalo è anche forte in realtà però è forte se hai una build apposta ci sverda se loro hanno uno scorpione sono tutti invece no perché ci baffa il godo scusa è un animale migliore del mondo quell'autobus cosa fa l'autobus scusa e niente quando muore il cervo diventa un autobus e da un altro giustamente mi spiace per te autobus attacca splash a due di fronte ok sì in più c'era anche il peperoncino quindi o il peperoncino è l'abilità del allora l'unica ormai vai solo di oggetti ormai non la build va bene ma guarda che ci sono robe ficcanti poi allora lui così il problema che ripeto se trovi uno scorpione a fine quindi secondo me conviene potenziare anche un po' gli altri se hai uno scorpione davanti come primo ti uccide l'ipopoto ma è finita incrociamo le dita e basta potenza qualcos'altro tanto è già 17-23 si potenza ogni turno quindi a questo punto fai qualcos'altro ma cosa potenzi tanto prendi il sushi che potenza a caso inutile vabbè prendi no effettivamente il pepevoncino questo fa danno ad aria aspetta c'è c'è l'ox a caso portarli a livello 3 ma l'ox è inutile gli ezzar io ripeto che non è inutile ormai non serve più un pifero ripeto diventa diventa praticamente invincibile diventa invincibile se davanti c'è qualcuno che respawna e non serve comunque a niente cioè diventa invincibile una volta diventa invincibile vabbè c'è poco senti Fausto papetti sotto col sex tienilo salvato comunque l'ox tanto gli animali adesso per ora non è che ci servono moltini salvati di quelli che abbiamo così potenziali non ci proviamo a portarli a sopra a 2 è che ne servono a 3 per portarli al 3 la ciccolata questa è più per l'ippo però rollo eh sì la pera che la pera è abbastanza buona maledetto lui è la sua carne fa 20 danni la carne più 13 me lo sfonda 31 maledetto infame c'ha pure il picocco e niente è finita è finita guarda tutte bistecche a me io non ho mai visto in questo gioco una bistecca comunque non l'ho mai vista guarda il melone è utile stato è morto c'ha 41 danni vabbè vabbè capito schifo vabbè che non è che era The Super Auto Step Family tua sorella è Mart0943 di merda per fortuna che questa notte c'è il Moro by Night ragazzi per fortuna che questa notte c'è il Moro by Night avete capito bene e nel Moro by Night non mi frega niente la sportività avete capito nel Moro by Night questa notte si lavora con l'intelligenza artificiale si creano delle foto con i journey dei disegni delle opere d'arte semplicemente semplicemente con il nostro pensiero l'ho pagato 30 euro mi sono abbonato a quello da 30 euro di mille giorni ragazzi per chi non sa cosa sia conoscerà sicuramente da lì Mini questa qui è la versione che fa le cose vere però che fa le cose belle capito stanotte lo vedrete siateci facciamo Berlusconi che cammina nella rambla di Barcellona con un carrello della spesa pieno di Ashish va bene facciamo questa notte ragazzi siateci amici grazie per essere passati passate un buon weekend se dormite questa notte e basta vi lasciamo da gattone ciao belli ci vediamo domenica sera dove probabilmente sarò da solo anche domenica sera quindi ci vediamo